E' stata inaugurata oggi all'Happy Maxi Cinema di Afragola la prima sala IMAX del centro-sud Italia, dotata di un maxi-schermo di 300 metri quadri, immagini a 70 milioni di pixel e sistema Supersound da 22.000 Watt. La struttura sorge presso il centro commerciale Le Porte di Napoli ed è gestita da Stellafilm, società controllata di Lucisano Media Group. E a inaugurare l'innovativa sala tecnologia IMAX Experience è stato nel giorno dell'uscita italiana all'atteso film Spectre di Sam Mendes con Daniel Craig, 24esimo episodio della saga di 007. Ma ascoltiamo Luciano Stella, amministratore delegato Stellafilm SRL. Presentiamo Spectre ma lo presentiamo in una formula molto nuova, quindi il contenitore qua si sposa molto bene con il contenuto Spectre come si sposerà poi con il contenuto Star Wars, perché per la prima volta nel centro-sud, che ne esistono solamente due in Italia e in Lombardia, ad Epimax Cinema, quindi ad Afragola, al centro Le Porte di Napoli, la Stellafilm ha installato un IMAX, che è un sistema di visione potentissimo, di altissima risoluzione, quindi tra potenza e risoluzione, quindi tra luminosità delle immagini e sonoro, è la visione dei film spettacolari come Spectre la migliore possibile. E tanti sono stati gli ospiti presenti all'inaugurazione dallo scrittore Peppe Lanzetta, agli attori Vincenzo Salem e Carlo Bucci Rosso. Ascoltiamo. Sono contento perché in questa sala si inaugura un dispositivo nuovo che pare sia il terzo in Italia, IMAX, per cui vediamo il film in un contesto fantastico. Il film è molto bello, naturalmente con la Bellucci la chiamo Monica, con Mendes ci chiamiamo Sam e Peppe, naturalmente non è vero, però sono molto contento di essere entrato in questa avventura. So che ci sono delle innovazioni tecnologiche pazzesche e questo mi fa felice, perché a me il cinema tecnologico, pur non facendolo io, mi piace molto, anche perché quando c'è un cinema così tecnologico poi si vanno a vedere questo e vanno a vedere anche l'altro genere. È meglio distinguere le cose, più sono distinte, più sono chiare, più il pubblico è felice, sa cosa deve scegliere. Fantastico, veramente stupendo, consiglio a tutti di venire qui perché è veramente un salto di qualità incredibile, sia nella visione che nel suono. Ho visto dei film che ci saranno in inverno, in primavera, a parte Spectre, ma veramente da vedere, fantastici, Batman, Libro della giungla di Disney, un altro film di cui non ricordo il titolo, ma veramente stupendi, proprio bellissimi.